Siamo il gruppo San Francesco di Moiana, venite un secondo, sono coloro che hanno preparato gran parte della mostra che poi potrete ammirare, quindi gruppo San Francesco di Moiana venite per favore, alla fine troverete le foto, sono state fatte da questo signore con gli occhiali Rossi che si chiama Daniele Mornati, lui ha fatto le foto che poi vedrete, parte è anche grazie alla ricerca che abbiamo fatto grazie a Massimo Di Girolamo, quindi c'è anche una parte nostra, ma loro avevano già fatto una grande mostra sulle filande in generale, abbiamo preso la parte delle filande erbesi e l'abbiamo esposta, ci sono delle cose particolarissime, le abbiamo anche integrate con delle foto particolari tipo, se riuscite a trovare le foto della demolizione della Resiga, che era la filanda che c'era dove adesso ci sono le scuole elementari di Arcellasco, però io vi ringrazio, quindi in particolar modo Molteni Antonio e Giorgio Mauri che hanno fatto la ricerca storica, tu che hai fatto la ricerca fotografica, quindi hai fatto delle grandissime foto, ringrazio Laura che mi ha aiutato anche a restaurare delle foto vecchie e Carla Redaelli che fa la timida, non è venuta qua, ma che è il nostro contatto, vero, quindi grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Niente, siamo contenti di aver potuto contribuire a questa serata con questa mostra che avevamo fatto un po' di anni fa, il gruppo San Francesco aveva a partire dal 1991 rientrodotto la festa di San Francesco nella frazione di Moiana, però abbinandola con un aspetto culturale, adesso qui vedo facce che ho incontrato tante volte negli anni dal 1991 e abbiamo fatto una ricerca sul territorio, quindi abbiamo fatto ad esempio delle filande, dei castelli, delle ville, santuari eccetera, proprio per giustamente quello che veniva detto di far rivivere la storia, abbiamo dato il nostro piccolo contributo, grazie, era doveroso essere qui per un riconoscimento ai bei che davvero sono sempre venuti molto volentieri e gratuitamente a Moiana alla festa di San Francesco, grazie. Grazie a voi e adesso grazie.